Continua senza interrompersi il mercato delle Juventus Women, Agnese Bonfantini è stato ufficializzato, è una nuova giocatrice della Juventus Women. Allora, cosa comporta questo? Comporta tante cose. Allora, secondo me a questo punto non verranno più prese attaccanti perché a mio parere Bonfantini andrà ad occupare il posto lasciato libero da Maria Alves. Con la differenza che Maria Alves aveva 27 anni, Bonfantini dovrebbe averne compiuti 22 ieri, quindi una giovane che possa far rifiatare le varie bonansea e urti, che chissà magari nel tempo anche contendere il posto da titolare, anche se attualmente non è all'altezza, però come ho già detto ha 22 anni, quindi può diventare all'altezza. Allora, arriva dalla Roma come ho detto, penso, e il percorso inverso lo farà Ljonna che passerà a titolo definitivo dalla Juventus alla Roma. Dopo due stagioni passate in prestito e i due passate con noi, Ljonna ci saluta definitivamente, comunque non c'è ancora il professionismo in Serie A, quindi un contratto più lungo di due anni non glielo potranno fare. Quindi volendo, anche se dovesse crescere bene, Ljonna potremmo provare a riprenderla fra due anni. Allora, benvenuta a Bonfantini, in questi giorni ci sono stati anche altri movimenti di mercato, Ciberras è andata in prestito al Tavagnacco, e poi aprile è arrivato, cioè non è ancora ufficiale, però dovrebbe arrivare alla Juventus come secondo portiere. Non mi ricordo per chi, dovrebbe andare in prestito qualcuno all'Empoli, mi sembra. L'Empoli a sua volta dovrebbe dare qualcuno in prestito all'Inter, l'Inter ci darà aprile, appunto è una notizia che ho letto da Giovanni Albanese. Comunque, vabbè, le Juventus Women sono molto attive sul mercato, lo abbiamo visto. È tornata anche Martina Lenzini, dopo alcune stagioni via dalla Juventus, torna ufficialmente, lei dovrebbe essere un difensore centrale, ma l'altro giorno discutevo appunto con Juventus, con J-Woman e i giovanili, che l'ultima stagione lei l'ha passata da terzino, quindi potremmo usarla eventualmente per far rifietare uno dei nostri terzini. Niente, quindi bentornata Martina, benvenuta Agnese e un grandissimo in bocca al lupo a Gionna e a Ciberras. Nulla ragazzi, non so cos'altro dire, credo che a questo punto manchi solo una centrocampista di riserva, che prenda il posto di Yaya Galli, che andrà all'Everton, e per il resto penso che il mercato della Juve sia quasi finito, nel senso, sì, verranno date magari tante altre giocatrici in prestito, ma non penso che si faccia altro dopo. Nulla ragazzi, sempre fino alla fine forza Juventus Women, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!